La città di Fano è degna di avere al pari di altre realtà marchigiane un nuovo impianto polivalente dove ospitare eventi sportivi o di altro genere che portino nella terza città delle Marche flussi di persone anche in altri periodi dell'anno ma questo non deve andare a discapito del tessuto economico locale anzi gli devono fornire nuova linfa. Fano ha bisogno sì di nuove strutture sportive ma non di nuovi centri commerciali e attorno a questo concetto che convergono su tutta la linea il sindaco Massimo Seri e Barbara Marcolini presidente di Confcommercio Fano che ha ribadito questa mattina quanto espresso nel comunicato diramato nella giornata di ieri su questo argomento dopo che nei giorni passati il progetto di un ipotetico nuovo stadio supportato da privati è stato svelato con annessa la sua dote ovvero una componente commerciale importante sul suolo pubblico cosa che ha portato ad una generale levata di scudi. L'impianto sportivo in quanto stadio per noi assolutamente sì la città è degna di uno stadio nuovo però questo non deve comportare speculazione commerciale perché perché comunque in una cittadina dove già le aree commerciali sono tante e dove siamo saturi e dove ne arriveranno altre questo per il nostro commercio è deleterio. Noi siamo veramente in controtendenza perché in tantissimi posti a cominciare dal nord a cominciare da altri paesi si sta ritornando a riscoprire il centro storico a riscoprire i borghi a riscoprire la città e il negozio sotto casa quindi dobbiamo trovare altre strade non certo queste. Di simile sostanza il pensiero del primo cittadino quindi che sottolinea come il comune di Fano non ha sì le forze per sostenere la costruzione di una nuova struttura pertanto benvengano nuove proposte che portino sviluppo e creano un indotto virtuoso nella città anche se in questa fase siamo in un sun ipotetico ma comunque sia questo non deve andare a discapito di altri settori della comunità. Però dobbiamo essere anche consapevoli che non abbiamo come amministrazione le risorse necessarie per fare un intervento importante di questo tipo perlomeno se facciamo questo non facciamo più nulla nella città e penso che non sia la cosa più saggia. A chi dice di usare risorse pubbliche io sarei il primo come però dicevo bisogna averle queste e oggi oggettivamente non ci sono. La città ormai è satura delle aree commerciali quindi non a caso ho parlato di sport, di cittadella dello sport e quindi le cose che ci devono essere devono essere finalizzate a questo obiettivo.